meraviglioso praticamente avete sentito una no 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 è verso di me tu non ci sei ti vi rendete conto una voce fuori campo il famoso deus ex machina adesso lo riprendo su insaputa no no non glielo posso fare comunque la zona è stupenda vedete che che cosa poi la cosa incredibile è che i fiori che voi vedete qua dovrebbero vedersi insomma ci sono dei fiori gialli che fanno pensare praticamente alla primavera mi giro di qua non ti preoccupare non ti riprendo è fantastico sta uscendo pure un raggio di sole ma che vogliamo di più della vita c'è una canzone incredibile io ho composto che si chiama torno in primavera e ne sentirete delle belle perché già è una hit